Guardate oggi che vi faccio vedere pesce spada e melanzane e pomodorini e melanzane a bola che facciamoci con le melanzane? Ragazzi buongiorno! Quando io ci venivo a fare una ricetta bella oggi facciamo pesce spada, melanzane, basilica, pomodorino, olio, salato, aglio è capace di imparare perché il melanzane è già tagliato Il primo passaggio mettiamo i melanzane dall'olio ecco la virgine di oliveri, la terra bellezza Ragazzi mentre il melanzane si fanno e facciamo la fritta andiamo a mettere l'olio e l'aglio ne mettiamo poco perché il melanzane assorbano ok e se vuoi mettere poche basilica a cuccioli di in mano la maromba guardate quanto è bella belle dorate dorate li mettiamo dentro altra cosa, lì sempre melanzane, vai ragazzi, mele di Mugnana dai salcucci e brì belle dorate dorate perché fanno i miei coci del cantino guardate qua 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 cannelli guardate qua che diventa crema che mi rideremo con il sole sapete cosa succede? si riempi di melanzane e fischi spada mamma faccio cannelli salammare la quini mettiamo uno e due un pizzico di sale e poi prendiamo la pasta e ciò non questo è il tuo mamma mia guardate qui, stai in città in crema mamma mia che spettacolo il pomodorino guardate qui i pomodori guardate qui, non mi sono scontato ma la pasta che sta è andata poco a poco lo alziamo bella ardente ardente non dà due minuti prima lo alziamo finita è bella lucida lo alziamo e la facciamo saltare che goduria, che goduria ora è un momento più bene l'assaggio guardate che fa, si riempie di pesce a spada allora vieni a capire, ti mette qua mamma mia che goduria, voglio organizzare il cispato, il cugnano e il pomodoro è una ricetta facile, di estiva, bacita tutto quanto, perché è la goduria andiamo a riparare il cipro, ci mette la caccia